Che me volevi domandare? Niki Giussino, il disturbatore televisivo per altri romani. Ah, tu sei un disturbatore? Niki Giussino.it Da, no, una domanda. Caro Antonio, sempre uomini e doni, Maria De Filippi, le amo, Maria De Filippi, la amo. Allora, quando trovi un fidanzato che gli italiani se lo chiedono, sembra che è una mania di esibizionismo, no? Io ho la mania di esibizionismo, questo è qui. Però pure la tua sembra che... No, no, il cuore, quando il cuore mi avverte, il cuore mi manda il messaggio. Secondo me si sposerà con Anaï, la stiglia. Vero? Un saluto. Ciao.